ora oggi volevo parlarvi di del concetto di diversificazione no allora a parte che mi hanno mi hanno detto che ci sono ora iniziano vari personaggi più o meno loschi a parlare di small cap quindi e lo fanno parlando di inganni no che mi ricorda un evento che c'è stato da poco insomma e va bene sono sempre contento di portare un po di sana formazione informazioni in italia ma al netto di questo cui voglio parlare è un po il concetto di diversificazione perché concetto diversificazione è il concetto con il quale tantissimi di quelle che parlano di investimenti di borsa di finanza in generale ampliamo il raggio si riempiono la bocca no è un po il concetto che sostanzialmente trovi su tutti i libri di business nel senso libri di economia università e quant'altro si parla di diversificazione ok quindi sostanzialmente il concetto è io cerco di diversificare perché voglio come una sorta di mitigazione del rischio ok quindi sostanzialmente cosa faccio questo è il concetto teorico vado a prendere un settore di riferimento per settore io intendo delle azioni comunque degli strumenti che fanno parte di un settore questo settore potrebbe essere per esempio che ne so il settore manifatturiero settore dei servizi settore tech quindi del parliamo di tech come apple facebook e quant'altro per esempio amazon e quant'altro e quello è un settore e quindi se io mi vado a esporre su quel settore dovrei diversificare con un settore che in qualche modo non è correlato a quel settore che significa significa che se io vado a investire per esempio sul tech poi dovrei andare a fare cosa a diversificare scegliendo un settore che non dovrebbe in teoria risentire di fattori che potrebbero andare a intaccare il settore del tech quindi per esempio investo nel settore tech c'è una legislazione che esce fuori una legge un disegno di legge chiamatelo come volete che va in qualche modo magari una tassazione estrema ok per esempio visto che si parla molto no di tassazione per le multinazionali tech per esempio amazon e quant'altro e quindi magari esce una normativa che in qualche modo va ad impattare sul business model di quelle aziende di quel settore io non voglio essere dentro con tutti i miei soldi quel settore perché potrebbe essere problematica quindi che faccio diversifico in settori che sono decorrelati da quello in modo da bilanciare un po la mia esposizione ok a livello teorico va benissimo va benissimo a livello teorico è molto bello ha senso è bellissimo è bellissimo riempirsi la bocca con queste parole è bellissimo poi andare ad usare dei personaggi diciamo dei grossissimi punti di riferimento per tutti ok nel mondo della finanza come può essere per esempio non lo so warren buffett più famoso come può essere non lo so carlai can mostro sacro di wall street come può essere non so soros come può essere reidalio e quant'altro però c'è un piccolo problema c'è un piccolo problema che che va a monte poi perché tantissimi poi dicono ah vabbè ma tu diversifichi perché hai cioè diversifichi quando hai tanti soldi in realtà non è così perché tutti questi personaggi che ho nominato ok di cui si riempiono la bocca tutti questi vari del guru degli investimenti e quello che vogliamo in realtà non fanno questo ok fanno qualcosa di totalmente diverso nonostante abbiano un capitale discreto tantinello più importante della media no delle persone che si affacciano la borsa e una delle cose che dico sempre è che quello che che faccio io con la mia attività di formazione sostanzialmente cercare di dare degli strumenti alla a una persona normale che intendo una persona normale una persona che ha un capitale di partenza normale la media no ok secondo da vedere un pochino le statistiche su il le percentuali della popolazione italiana rispetto al reddito che producono ok se non sbaglio superati sessantacinque mila euro all'anno parliamo di forse il meno dell'un per cento della popolazione italiana o forse la centomila comunque avete capito un pochino il senso cioè parliamo che si si perde proprio la la prospettiva rispetto a quello che realmente è lo strato ora sociale lavorativo e remunerativo in italia che è bassissimo ok quindi parlare di concetti fumosi perché tra l'altro poi nella loro testa sono i concetti che adottano i grossi investitori tipo come detto car raga warren buffer blablabla è assolutamente folle perché se io devo fare una formazione devo farla una persona che ha un capitale normale possiamo quantificarlo 5 10 15 20 mila euro ok da poter destinare un'attività a rischio come far trading a rischio soprattutto se non sai quello che devi fare una cosa che andrei a sottolineare e quindi io devo tenerlo a mente e devo assolutamente spostare il focus verso una gestione di quei soldi che possano dare un ritorno ma che possano darlo in tempi tra l'altro ragionevoli perché altrimenti ad investire a fare questi ora sono tornati di moda i piani di accumulo noi tutti quanti a raccontarvi a menarvela con investi 100 euro al mese sta roba qua si va benissimo ma quella può essere una piccola parte del tuo portafoglio esattamente il contrario anzi del tuo portafoglio della gestione dei tuoi soldi è esattamente il contrario di quello che vi raccontano cioè vi raccontano che voi dovete mettere una larga parte di quello che avete ok lavorando magari quindi come reddito in quel tipo di gestione mentre invece poco in una gestione speculativa esattamente il contrario ok e cosa fanno quindi questi grossi investitori di cui si riempiono la bocca questi personaggi esattamente il contrario ossia non diversificano bensì concentrano ok e mi spiego meglio allora vada se vada se che se non capite un un assunto fondamentale ok che mettersi in borsa comprando titoli a caso diversificando avendo letto un libricino magari ok ho letto un libro di finanza va beh mi sento esperto diversifico compro un po di titoli a caso accumulo 100 euro al mese e quant'altro nella migliore delle ipotesi tra vent'anni avete un ritorno minuscolo piccolissimo e va bene ci può stare dipende molto anche dal dalle aspettative che si hanno no rispetto a questa attività ma se volete diventare degli investitori barra dei trader capaci ok che fanno fruttare i loro soldi dovete capire che dovete impegnarvi un po di più ok e cosa fanno quindi questi investitori una cosa che vi ho detto semplicissima concentrano non diversificano concentrano ok e vi spiego come però prima vi faccio un paio di esempi per esempio carlai can ok qualche anno fa forse una decina abbondante di anni fa no forse un po di più una quindicina valeva più o meno 10 miliardi di dollari come patrimonio ok gestito e ha deciso di fare un unica un unica scommessa passate nel termine di 5 miliardi quindi la metà del suo patrimonio su apple per esempio ok se andate a vedere i portafogli ok di questi grossi investitori sono tutti concentrati ok non c'è il andare a diversificare metto un po qua un po la un po su un po giù è che un 50 60 per cento è assolutamente concentrato concentrato con una dinamica che ora vi racconterò concentrato e il resto poi va a diversificare magari in modo anche più ancora più speculativo ok ma perché concentrare è la via perché concentrare lo puoi fare se sai quello che stai facendo e se sai scoprire capire valutare i temi che muovono il mercato cioè come si muove come si muovono le azioni in borsa i panieri di azioni non azione singola panieri di azione si muovono con dei temi ok questi temi sostanzialmente possono essere di diversa natura ora per esempio c'è un topic molto importante sulla carenza di semiconduttori piuttosto che c'è un topic che è assolutamente continuativo e rilevante su il settore e v quindi veicoli elettrici ok e di conseguenza tutte queste tipo di topic movimenti temi che poi possono essere temi che sono anche assolutamente confermati da legislazioni che cambiano ok per esempio la cannabis negli stati uniti c'è un un importante parlare del voler andare a legalizzare la cannabis in sempre più stati ok oltre un uso medico parla proprio un uso ricreativo e questo ovviamente questo tipo di legislazione ok che può cambiare andrebbe a impattare in modo importante su tutte le azioni che fanno parte del paniere di per esempio relativo in qualche modo che è nell'ambito della cannabis quindi produttori piuttosto di distributori piuttosto che quello che volete il solare ok il solare è uno dei temi per esempio che ha preso assolutamente fuoco che ha preso assolutamente momentum e quindi importanza dopo le elezioni biden ok dei democratici negli stati uniti quindi solare poteva essere uno dei temi dove andare ad informarsi ovviamente andare in profondità comprendere capire e andare a concentrare la propria scommessa quando parli scommesse perché la derivo dal termine bet no ok ma è tutta una scommessa nella vita sostanzialmente no si scommette sempre anche quando ci si sposa si scommette che la persona con quale mi sto sposando sarà la persona giusta non c'è certezza nella vita no però diciamo che hai fatto delle valutazioni che ti hanno portato a dire ok questa è la scelta giusta quindi cosa fanno concentrano concentrano e come lo fanno c'è un tema un'evoluzione una novità un cambiamento strutturale importante anche può essere ok che è assolutamente importante oppure un'azienda come dicono gli americani distratti no c'è che va a cambiare le regole del gioco è quello per esempio che fa katey woods no katey woods va ad investire a concentrare ok la gran parte del suo capitale del suo portafoglio in aziende di questo tipo tutte aziende che sono in qualche modo distratti che vogliono cambiare il mondo dei pagamenti online che vogliono cambiare il mondo del trasporto tesla grossissima scommessa di katey woods no e quindi è molto importante e la la diversificazione viene dopo c'è una volta che tu diventi un qualcuno che può stare sui mercati perché il problema dei mercati è che non è un problema in realtà è il motivo per cui per cui facciamo soldi tutti i giorni è che è un un mercato aperto ok devi avere sostanzialmente soldi da usare un intermediario che ti fa accedere al mercato quindi ti dà la possibilità di delle quotazioni ma soprattutto di eseguire delle contrattazioni e dopodiché sei al pari di warren Buffett